Ciao ragazzi, sono Barbara G, come mi chiamano qua a scuola, e oggi mi rivolgo a voi. Sei uno studente universitario, devi accedere all'università, oppure devi accedere alla laurea magistrale, oppure vuoi andare all'estero e hai bisogno di una certificazione. Il problema è gestirsi all'interno di queste certificazioni linguistiche. Dobbiamo cercare di capire qual è la differenza tra le Cambridge, Cat, Pet or First, dobbiamo capire qual è ad esempio l'esame TOEIC e per che cosa ci abilita, dobbiamo valutare la differenza fondamentale tra IELTS e TOEFL e soprattutto dobbiamo parlare di punteggi, perché quando parliamo di certificazioni possiamo parlare di mondi differenti, possiamo parlare di livello di B1 piuttosto che di livello di B2. Noi abbiamo bisogno di una preparazione mirata allo speaking, piuttosto che al listening, al reading, al writing, dobbiamo sapere che cosa andremo ad affrontare quando faremo l'esame, dovremo sapere quante ore dura l'esame, perché stiamo parlando di certificazioni che possono durare tre, tre ore e mezzo, quindi anche la gestione del tempo è assolutamente importante. e dobbiamo sapere fondamentalmente qual è il punto nostro di partenza, per poi stabilire insieme quale potrebbe essere l'obiettivo. Hai bisogno di informazione e merito? Siamo disponibili, le informazioni sono gratuite, così come è gratuito il test di livello che potresti fare a scuola qua da noi. Sei il benvenuto. Ciao! Ciao! Grazie.